Prendo pochi minuti per introdurre le compagne che sono qui oggi con noi, anche se pochi minuti sicuramente non bastano per parlare delle loro storie di lotta e di vita, ma ci proviamo lo stesso. Lolita, la compagna che ha appena fatto il rituale, è una guerriera e una guaritrice dal Guatemala, è dell'etnia Maya Kitsche, è una femminista comunitaria e la sua vita, la sua lotta si articola contro la violenza capitalista e estrattivista e nella costruzione di comunità da una prospettiva femminista comunitaria. Le sue esperienze di lotta sono moltissime, ma ricordiamo le più di 30 imprese minerarie che ha fermato insieme alle sollevazioni popolari, le più di 15 imprese idroelettriche, tra cui un inizio di un percorso di lotta contro Enel, di cui anche oggi parleremo molto, e poi in ultima istanza quando è arrivato il progetto dell'industria del legname in Guatemala, le lotte che hanno articolato contro l'industria del legname. L'industria del legname è sovvenzionata anche dalla Banca Mondiale, motivo per cui in questo momento Lolita non sta più vivendo in Guatemala dal 2017 ed è costretta a stare fuori dal suo territorio per le persecuzioni, le minacce di morte e gli attentati alla sua vita a causa della sua posizione politica. Quando parliamo della Banca Mondiale per renderci conto della gravità dobbiamo capire chi difende i potenti nei territori e che violenza usa e in questo caso parliamo di corpi militari come i Qaibiles, che sono un corpo militare d'elite che è stato addestrato dal Mossad e dalla CIA e poi è fuori uscito dallo Stato, si è dichiarato autonomo e come corpo paramilitare svende i suoi soldati come mercenari ai grandi capitalisti e al narcos e sono proprio queste persone insieme a tanti altri gruppi di militari, lo Stato e i capitalisti che attentano alla vita di Lolita. Anche la vita di Ana è attentata in questo motivo per cui anche lei non sta più in Messico. Ana è la compagna qui a fianco a Lolita, Ana è innamorato, è una compagna honduregna che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita invece in Messico perché sta cercando suo figlio Oscar che dal 2010 è desaparecido. Ana è insieme a molte altre donne e molte altre famiglie ha fondato e adesso è membro della Red Regional de Familias Migrantes la rete regionale delle famiglie migranti e appunto lotta per cercare suo figlio desaparecido ma questa non è e non è mai stata una lotta individuale, oggi ce ne parlerà molto ma è una lotta collettiva che ha coinvolto decine di centinaia di altre donne, madri e famiglie. Si trova qui oggi insieme a noi e possiamo direi iniziare proprio da Ana a fare la prima domanda.